Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli, ecco le ultime notizie su traffico e mobilità in Toscana in questi minuti. Mobilità regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI restano rallentamenti per incidente tra Interporto Toscano Oves e Interporto Toscano Est per chi viaggia verso Firenze. L'incidente provoca inoltre la chiusura dell'uscita di Interporto Toscano Est per chi proviene da Livorno. Sempre in FIPILI, in carreggiata opposta, quindi direzione mare e rallentamenti per cantieri tra Mutopoli-Valdarno e Ponte Terra Ovest. Per la cantieristica sulla Statale 1 Aurelia fino al 20 ottobre segnaliamo lavori in carreggiata a sud in prossimità dello svincolo di Livorno Sud. Fino al termine dei lavori, doppio senso di marcia in carreggiata a nord e chiusura temporanea della rampa d'ingresso dello svincolo di Livorno Sud per chi viaggia verso Grosseto. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!